amici visitatori di telebabu web o anche telebabu web siamo qui a crotone e questo come potete vedere è bellissimo mare ma cosa fa per l'uomo ma cosa sta facendo ma è matto telebabu telebabu ha sentito guardate qua che spettacolo il lungomare amici telespettatori visitatori telebabu vi consigliamo di venire qua al crotone che è una bellissima città guardate qua che spettacolo visuale che c'è da qua il lungomare vi consigliamo di venire a visitare crotone amici telespettatori visitatori telebabu web tv anche telebabu web guardate qua che spettacolo vi consigliamo di seguirci sempre mettete mettere un like alla nostra pagina facebook telebabu tv anche telebabu web e mettete anche mi piace nella nostra pagina youtube e facebook condividete il video se vi piace condividete anche la pagina e fate conoscere il telebabu web il prossimo video seguitevi sempre ciao da qui da crotone questo modo